Finalmente da qualche istante IMSS sta iniziando ad aggiornare il dettaglio pensionistico alla mensilità di marzo 2024. Importi molto attesi per evidenti motivi di conguagli addizionali, acconti comunali, riforma IRPEF, aumenti netti e rivalutazioni arretrate. Vediamo quindi i quattro modi per verificare in anteprima rispetto al cedolino questi importi con un'ultimissima ora IMSS. Io sono Mr. Lul e se invece voi siete tra coloro che ancora non sono iscritti, iscrivetevi anche per premiare la tempestività di questo video. Un bel mi piace e primo passo verifichiamo assieme che il dettaglio pensionistico sia aggiornato. Quindi fascicolo previdenziale, prestazioni, pensioni, lista pensioni e dettaglio. Qui troverete chi prima chi dopo il dettaglio aggiornato al 3 2024 senza Totalone. Ormai cancellato da IMSS e vi do subito una pessima notizia. Totalone cancellato non solo per i pensionati, i cittadini, ma anche per gli intermediari da questo mese. Quindi nemmeno CAF e patronati potranno supportarvi e controllare i vostri importi. Quindi come facciamo a fregare IMSS e vedere gli importi di marzo in anteprima? Allora per i percettori di pensioni di invalidità tutto abbastanza facile grazie al nuovo portale disabilità, sezione pagamenti e cedolini e da qui avete i vostri importi. Poi seconda via modello OBIS che però IMSS deve ancora sbloccare e pubblicare per quest'anno quindi probabilmente uscirà prima il cedolino di marzo. Terzo metodo facile ma non per tutti. Parliamo della simulazione del piccolo prestito della pensione per i pensionati ex INPDAP o per gli iscritti alla gestione creditizia. Simulazione che vi dice in anticipo il lordo di marzo. Quarto metodo verifica quota cedibile o simulazione cessione del quinto. La procedura IMSS vi calcola un quinto del vostro futuro netto quindi vi basterà prendere questa quota, moltiplicarla per 5 e saprete indicativamente in anticipo il vostro prossimo futuro netto della pensione. Appuntamento con il cedolino vero e proprio dove potremmo finalmente tutti visionare il dettaglio delle voci con la nuova trattenuta sul netto dell'addizionale comunale in acconto IRPEF per il 2024 mentre per la riforma dell'IRPEF come sapete si attende aprile, è ufficiale. Alla prossima, un abbraccio da MrLul.